Bagliori rossi, una battaglia sanguinosa, due figure di cui una rispondeva al nome di Nemesis, e infine una bambina su un trono. Erano questi gli elementi che caratterizzavano il sogno di Byleth, un giovane mercenario. Dopo aver fatto ritorno dal mondo onirico, ebbe una breve discussione con suo padre, Geralt Reus Isner, lo spezza lance, conosciuta da molti come il soldato migliore di tutto il regno del Fergus. Geralt ora ha una nuova occupazione, ha abbandonato la vita da militare per diventare un abile capo di un gruppo di mercenari. I mercenari guidati da Geralt e suo figlio svolgono incarichi che riguardano l'eliminazione di briganti, tagliagole e ladri. La loro nuova missione doveva svolgersi nei territori del sacro regno del Fergus, ma un imprevisto cambiò totalmente la rotta del gruppo. Due giovani e una fanciulla raggiunsero l'accampamento dei mercenari e chiesero aiuto allo spezza lance per sistemare dei banditi. Questi furfanti avevano tenuto un'imboscata ai ragazzi con lo scopo di ucciderli e di rubarli. Byleth e Geralt accettarono di aiutarli anche per salvaguardare il villaggio vicino al loro accampamento. Colpo dopo colpo i briganti caddero sotto i colpi esperti dei mercenari e dei ragazzi. In una carica disperata, Costas, il capo dei banditi, puntò contro Eldelgard, la giovane ragazza che si rivolse ai mercenari di Geralt. Byleth, accortosi del pericolo, si precipitò a difesa della ragazza. Tuttavia, preso dall'emergenza e dalla fretta, Byleth si ritrovò in una posizione precaria tra la ragazza e la lama di Costas. La sua morte era inevitabile. Si ritrovò immerso nell'oscurità, tuttavia riuscì a scorgere la bambina che sogniò tante volte. Il suo nome era Sophis, una potente identità capace di riavolgere il tempo. Byleth scoprì che era ancora in vita e chiese alla sua nuova amica di riportarlo indietro nel tempo, al momento dell'attacco di Costas. Ritornato nel mondo reale, Byleth riuscì agevolmente a proteggere Eldelgard e così la vittoria fu assicurata. Dopo aver costretto la fuga ai banditi, i ragazzi soccorsi si presentarono al gruppo di mercenari. Eldelgard, Dimitri e Cloud erano studenti dell'Accademia Ufficiali del Monastero del Garak Mark, sede della chiesa di Seiros, posizionata al centro di Fodlan. Geralt dovette rinunciare all'incarico del Fergus e fu costretto a recarsi al monastero portando con sé tutti i suoi mercenari. Qui incontrarono l'arcivescova Rea, figura portante per la chiesa di Seiros. Rea offrì un nuovo lavoro a Byleth e a suo padre, quest'ultimo tuttavia sembrò essere diffidente verso l'arcivescova. In passato lavorò per lei e per la chiesa, ma non riuscì mai a fidarsi completamente dei funzionali della stessa. Dopo aver messo in guardia il figlio riguardo alla pericolosità di Rea, Geralt spronò comunque Byleth ad accettare il nuovo incarico da insegnante per l'accademia ufficiale del Garak Mark. Il giovane seppe provare le sue doti da insegnante, stratega e combattente e a poco a poco conquistò la fiducia e la simpatia di tutti gli allievi radunati nella classe delle Aquile Nere, capitanate da Eldelgard von Hesberg. Mano a mano che i mesi passarono, Byleth si legò sempre di più ai suoi studenti. Lezioni e incarichi per la chiesa sembravano gli elementi che permisero al giovane di diventare sempre più empatico ed estroverso. Durante quei giorni ha avuto modo di comprendere molto sulla cultura di Fodlan, sulla sua società e sulla chiesa. Scoprì che il sistema aristocratico presente in questo luogo si basava sui segni, delle benedizioni concesse dalla dea a pochi eletti, affinché quest'ultimi possano padroneggiare poteri straordinari. Durante la battaglia di Magdred contro un signore ribelle, Lord Lonato, Byleth scoprì che i segni potevano essere usati per domare e impiegare le reliquie degli eroi, armi formidabili. Catherine, una soldatessa al servizio della chiesa, ad esempio, mostrò il potere della sua reliquia, la Tonitrus. Passarono pochi giorni dalla rivolta di Lord Lonato e una nuova minaccia turbava gli abitanti del Garak Mark. La chiesa occidentale tentò di rubare la spada della creazione, una delle più potenti reliquie a degli eroi mai create. Il loro tentativo fallì grazie a Byleth e i suoi studenti. Fu proprio in quella occasione che il professore scoprì di essere in grado di impugnare e risvegliare la spada della creazione, il che lo rendeva un portatore di un segno a lui sconosciuto. Grazie a tutti. Grazie.